Guarda qua, dicendo, adesso voi, o cerca di fare una domanda a loro che stanno molto lontano da qua, cerca di fare una domanda qua, no, guarda qua, va bene, cerca di fare una domanda con i testi, qui, e che mi stai dicendo? Sì, ok adesso l'idea, vuoi, 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 vai meno quanto la domanda sempre? Trì, in canto, dietro, 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 dietro. Ah, hai fatto un cambio, ho? Un po, tre, ok. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.